oh non si alza neanche a morire alzati in piedi culo indietro fai meno fatica culo tutto indietro poi pinza la moto se devi scappar via ti serve il motore no fai fatica vedi c'è il motore c'è il motore acceso quando sei in una posizione strada scappi via ma accendila sempre poi dietro lascia il davanti leggero non pesantirlo no 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 tocane dentro una marea di roba mostra a far andare in su che che bella cattiva per la cattiva sì